È una giornata storica. Oggi il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha dato mandato al Collegio di Questori di fare un'istruttoria per abolire definitivamente i vitalizi degli ex parlamentari. Entro 15 giorni avremo la documentazione necessaria per abolire questo privilegio inaccettabile. È una questione etica, ma anche una questione economica, perché potremmo così risparmiare 350 milioni di euro in una sola legislatura. Si tratta di una misura necessaria per ripristinare l'equità sociale, si tratta di una misura per avvicinare i cittadini alle istituzioni. È ora di cambiare il Paese. Il Movimento 5 Stelle mantiene le promesse. Questa era una promessa che avevamo fatto e la stiamo mantenendo.